E' arrivata un'altra buona prestazione per il volle soverato del presidente Matozzo, che nel match valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di A2 e Girone B, disputato al Palascoppa, ha raccolto comunque un punto, cedendo solamente al tiebreak al più quotato Montecchio, in un match dalle mille emozioni, conclusosi con i parziali di 22-25, 25-21, 21-25, 25-22, 12-15. Una partita che ha dimostrato i passi avanti che la squadra bianco-rossa aveva già confermato nelle ultime prestazioni e nelle ultime settimane, conquistando anche l'accesso alla fase successiva della pool promozione e quindi di conseguenza una salvezza con largo anticipo. Una squadra giovane, quella di Coach Chiappini, che si sta comunque ben comportando e che potrebbe dare altre soddisfazioni nel corso della stagione.